Dopo c'erano il suono delle campane per i morti, per le feste, per cui c'erano anche quelle di diversità. E voi avevate un modo per chiamare il suono delle campane tiragakorda? Non so, tirare trampe campane o qualche altra parte, come la chiamavate voi? Suonava distesa, suonava lunga, qualche espressione? C'erano una suonata, cioè quando suonavamo le campane, le cose erano praticamente, ma le campanelle, le campanelle che suonava le campane. Ecco così. Suonava le campanelle, cioè io suonava le campane e tutti ci interessavano, perché anche quello che non... Però, o il sigrista o un altro che era pratico, quando suonavano le campane a festa, quando diceva se no tu ti tirai. Però allora dicevano quello, quello, quello che era pratico se ne fregava. E poi andavo sotto le campane suonavo, con gli altri tutti assieme, cominciava la prima, la seconda, la terza, la tomm, dopo tornavo, poi la seconda, poi la terza, poi la quarta, poi la quinta, ci lasciava passare il suono. Dopo ci cominciava a demora con l'ottava, cioè l'ottava, dopo la settima, dopo ci come c'erano le campane del morgo, la ottava e la settima, la settima era l'indice del morto. Cioè quando suonavi la settima, con l'ottava, le due campane, dopo ci si fermava, la seconda, la settima, perché quello era il segnale che era, che era il segnale che era morto, il segnale che era morto. Quindi suonavate la settima, la settima e l'ottava, le due campane più grossi, come quando moriva una persona, ci suonava, ci suonava un tocco con le campane dell'ottava, poi ci dava segnali con la settima ancora, ci suonava a suonare e poi se era una donna, ci suonava, ci suonava, c'era uno strano, diciamo dal primo, che era morto, che era uno della parrocchia, che era morto per la parrocchia, ci suonava un solo segno, l'ottava, sempre come il segno primo, e poi la seconda, la settima, come se... quando era un uomo, un uomo, una donna, due segni, era donna, e tre erano uomini, ecco i tre, c'era un sacerdote, un sacerdote, ci suonava le campane a morto, e poi ci suonavano tutte le campane a festa, a festa, ci suonavano tutte le campane, ogni ora, durante la morte del parrocchia, ogni ora ci suonavano le campane a morto, ecco, dopo ci suonavano le campane assieme perché era il sacerdote, o il vescovo, o il papa, allora ci suonavano tutte le campane, però ci suonavano le campane a morto, ma assieme anche tutte le campane suonavano, suonavano per dare il segnale, ecco, era il segnale di un sacerdote, il segnale oltre al segno di morte suonava le altre campane assieme, era il segnale che era un sacerdote. Quando lei mi dice suonava una volta, o suonava due volte, vuol dire che facevate andare su e giù la campana e faceva un colpo? Un colpo, quando si suonava la campana ad esempio, c'era la campana, ecco, ci lasciava tornare e via. C'era, c'era in festa, ci suonavano una, l'altra, quell'altra, quell'altra, ecco, ecco, ci lasciavano uno, ognuno c'era andata, oppure tutti assieme, c'era, c'era, din, don, 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 ci suonavano tutti, ma quando si facevano i suoni per tenere staccato, c'era, c'era la prima, si sentiva il primo colpo, poi tornavano, ecco, poi il terzo, poi il quarto, il quinto, il secondo, e poi c'era già, però, una campana per votare e poi quando era finale, tutti assieme, allora, quando corsiava andare, venivano fuori tutte le campagne suonate, fate, ma allora. Voi facevate delle scale, ad esempio come dire, tin, ton, 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 tin, ton. Si, si, c'erano anche quelle... Con questa melodia? Si, si, quelle erano normalissime. Ah, erano normalissime. Non lo dicevo anche proprio suonando a corda, suonando con le corde. Voi facevate delle melodie come tin-ton, 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 tin-ton. Sì, sì, anche quelle, perché praticamente, automaticamente arrivava il suono lo stesso che diceva uno, tom, secondo, tom, 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 tom. Anche per cambiare un po', quando si diceva l'ottava, con la sesta, con la terza, con la quarta, e allora si, si contava di dare un po' di suono diverso, però era il suono dei capponi, però ora si suonava, poi tornava il suono, dopo si ripeteva l'altra, l'altra campana, proprio la prima campana suonava giù, l'ultimo era il suono normale, fino alla fine erano tutte le campane che suonavano insieme, e allora le corde ci attirassero, fino alla fine che era finito, diceva basta, è chiuso. E si ricorda quando hanno messo le campane nuove? Si ricorda quando le hanno inaugurate? Sì, sì. Che cosa si ricorda? Sì, sì, perché ha fatto la benedizione, quando ha fatto la benedizione eravamo tutti presenti, perché poi le hanno provate lì, erano tutti fuori dalla chiesa, le hanno portate tutte lì, hanno chiesto perché dopo ci hanno fatto la, quando hanno fatto le nuove campane, si portavano via tutte le altre campane per fare una colata solo, una colata solo per il suono. Quindi le campane vecchie sono state rifuse? Sì, sono state rifuse tutte insieme per fare, perché non è uguale. Ecco, quando sono arrivate ho fatto la benedizione, chiamando Orgo Senzica, quando hanno fatto la benedizione qui dalle campane, gli eri libri ancora, le ho dei libri ma alcuni di quei libri ero date in biblioteca non ci sono più, sono lì quelli moderni, che le campane allora le avevano portate benedette, venivano a mettere al vescovo ecco prima dell'installazione ancora come sono arrivati qui ho fatto la mededizione, la messa la festa, la festa delle campagne che avevano rimesse in chiesa, una grande festa, poi è stata una grande festa con contributi della gente perché la chiesa aveva bisogno di cose, tutti hanno contribuito per cui ognuno aveva come tenere un bambino battesimo, mettere nello capo do tanto capito? tutti hanno contribuito in modo particolare dopo guerra per rimettere le nostre campagne come le altre cose che hanno fatto io ho qui alcuni libri che della valle ecco alcuni libri della valle che eventualmente c'è l'interesse ah, i bollettini qui c'è la tavola la Bibbia qui ad esempio hanno fatto un numero dove parlano delle campane l'ho visto quando fanno i suoi quando fanno si, non so che si può prendere lì lo mangia volevo chiederle una cosa delle campane della cultura le campane che sono qui a santuario queste qua le hanno durante il tempo di guerra le hanno messe su a San Martino sono sempre state lì no 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 anche non so se le hanno portate via anche loro quello lì qui non hanno portato niente dalla parola di San Martino hanno portato via eventualmente qualcosa di fatti quello che lì via Madonna la cultura che c'è quel man praticamente dietro l'altare tutto quello a stelle era quello che c'era prima qui a San Martino poi l'abbiamo tolto perché tolleva la parte vigile del trittico del trittico che era dietro l'altare ho capito ecco l'abbiamo tolto perché non non era bello vedere quella roba lì perché c'era lì così bello e allora l'abbiamo detto e l'ha andato lì l'ha andato lì lei ha mai andato alla cultura a suonare? ha mai suonato le campane la? alla cultura qualche volta ma ma poca roba sono andato su qualche volta mi ricordo una volta con il Sergio il Sergio certo ecco ma anni fa prima anni fa me l'ha andato su sempre e suonava lì uno è stato super una volta ma non ho suonato neanche l'ho provato a fare la campana lei si ricorda qua a San Martino l'incastellatura il castello è sempre stato di ferro o era in legno prima? la parte diciamo che era il sottino delle campane è quello in ferro quello in ferro niente di legno secondo lei era ferro o ghisa? eh? secondo lei era di ferro o di ghisa? all'epoca usavano quella ghisa praticamente quella della breda era un ferro ghisa chiamiamolo perché per la ruggine più grande certo per la ruggine ma dopo era sempre in tempo in ferro il legno c'era solamente la parte della per il collegamento cioè praticamente per il sonno delle campanelle per il concetto delle campagne quello era il legno che andava fino alla prima fino ad aggiungere piccole campagne perché erano due piani da lì ci colleghavano per collegare le cose c'era colleghavano i fili i fili che scendevano lì dove c'erano poi il mortello praticamente battere le mani e i pugni poi gli usavano i pugni non 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 non